... Bellissima giornata, oggi abbiamo festeggiato assieme alla Capitanella di Porto, all'ufficio circondariale di Porto San Giorgio, questa Santa Barbara che è la nostra comune patrona, è veramente una bella giornata perché l'abbiamo festeggiata assieme per la prima volta qui a Fermo ed è la prima volta che la festeggio dopo 30 anni di servizio come comandante provinciale e nel comando di Fermo ne ho istituito appunto da appena sei mesi. Giornata emozionante, la mia prima Santa Barbara da comandante, comandante d'ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, prima volta qui nel Fermano che abbiamo festeggiato congiuntamente con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, spero sia solamente la prima di una lunga tradizione che testimonia comunque la collaborazione che c'è con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con tutto il territorio fermano e naturalmente l'amore per Santa Barbara, per la nostra Santa Patrona. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.